eh buongiorno a tutti ehm io sono rappresentante di Confindustria oggi sono vicepresidente di Salvatore Toma che è l'attuale presidente di Confindustria Taranto e ho la delega all' education eh tra l'altro lui vi porta i suoi saluti il lavoro che stiamo facendo con il gruppo tecnico education nasce proprio dalla esigenza delle aziende di trovare personale cioè noi non riusciamo a trovare personale nelle nostre aziende vi sembrerà strano eh ma quello che alimenta l'azienda naturalmente oltre all'idea geniale degli dell'imprenditore no? Del del sacrificio dell'imprenditore è proprio le risorse più importanti è quella del eh del lavoratore in questo momento non troviamo lavoratori allora il presidente Toma ci ha tenuto tantissimo a creare questo gruppo eh education eh proprio per cercare di capire qual è il gap quindi il mismatch tra eh scuola istruzione di qualsiasi tipo istruzione formazione e lavoro ci siamo resi conto che la scuola non parla col mondo del lavoro a parte l'università che si interseca però la scuola superiore per esempio non parla con la con le con le aziende e col mondo lavorativo intendo genera genericamente eh motivo per cui eh stiamo avviando una serie di progetti che penso che siano fondamentali noi abbiamo un grande problema eh al sud in sud Italia veramente ce l'abbiamo in tutta Italia che è quella della eh dispersione scolastica ma anche quella della desertificazione infantile cioè noi abbiamo un problema che stanno diminuendo i ragazzi e automaticamente eh i ragazzi in futuro saranno gli uomini che dovranno lavorare ci saranno sempre meno ragazzi tra l'altro ieri proprio sentivo che c'è dai dati istat che perdiamo eh ogni anno in vent'anni abbiamo perso tre milioni di ragazzi vuol dire che nella società ci saranno tre milioni mero di lavoratori di ragazzi che fanno istruzione e di lavoratori allora tutto questo apre delle eh degli alert per noi di Confindustria ehm per cui ci stiamo attivando io faccio anche parte del gruppo tecnico education di Confindustria nazionale e con loro stiamo avviando delle delle stiamo avviando dei suggerimenti ecco da porre eh da proporre a Valditara al ministro Valditara nel mio piccolo qui a Taranto nel nostro piccolo invece abbiamo avviato una serie di progetti uno è Orco che abbiamo fatto una un evento proprio un paio di settimane fa Orco è quell'evento che eh serve ai ragazzi delle scuole elementari e delle scuole medie per eh ridurre la dispersione scolastica che sembra che sia pari al trenta per cento al trenta e cinque per cento che è una cosa assurda per bambini di scuole elementari di scuole medie cioè sotto al di sotto delle della al di sotto della eh soglia dell'obbligo no della scuola della scuola dell'obbligo eh e poi abbiamo avviato un altro progetto che si chiama Eureka eh che eh invoglia i bambini delle scuole elementari ad avvicinarsi al mondo della meccanica è un progetto molto simpatico che poi alla fine porterà i ragazzi ad un evento nazionale sono ragazzini di quinta elementare anche quest'anno anche di scuola media un'altra cosa importante che io ritengo e che ho sollevato in questi in questi mesi di lavoro è proprio il la differenza la eh è proprio la mancanza di attenzione nella nei confronti dei ragazzi della scuola media noi pensiamo sempre all'università pensiamo alle scuole superiori e quindi cercare ma non pensiamo alle scuole medie nelle scuole medie i ragazzi hanno il momento in cui scelgono il loro il loro corso di studi e lo c'è lo scelgono insieme ai genitori quindi quindi stiamo avviando un progetto con le scuole medie di ampio respiro che probabilmente si svilupperà su tutto il territorio nazionale perché avrà una un un riscontro insomma anche nelle altre città dove facciamo conoscere a il scuole alle scuole medie non soltanto l'offerta forma l'offerta delle aziende di lavoro l'offerta di lavoro del del territorio ma mettiamo ai ragazzi la consapevolezza di quello che hanno sul proprio territorio ora è giusto che i ragazzi abbiano facciano l'esperienza di studiare fuori di lavorare fuori ma devono farlo non con la sofferenza ma con la con la consapevolezza ma devono avere la consapevolezza che se si rimangono sul territorio ci sono ci sono delle opportunità e le opportunità sono in ambito scolastico perché le università sono a questo punto abbiamo una delle università più importanti di tutta Italia Bari sta facendo un bel lavoro insieme a Lecce ehm abbiamo aziende sul territorio che hanno bisogno di persone abbiamo ehm progetti infiniti sul sul territorio di Taranto che porteranno tantissime economie e i ragazzi quindi hanno delle opportunità di lavoro e quindi per quale motivo quindi i ragazzi devono conoscere quello che il territorio gli offre quello che gli offrirà e le potenzialità della loro vita futura questo lavoro va fatto alle scuole medie noi lo stiamo facendo alle scuole medie perché alle scuole medie decidono il loro futuro e un'altra cosa che io eh ci tengo moltissimo a a sottolineare che ehm in questi progetti devono essere assolutamente coinvolti i genitori perché spesso i genitori sono quelli che non conoscono cosa offre eh Taranto cosa offre la provincia di Taranto e che offre che cosa offre la Puglia anche in termini di ehm di 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 università e di corsi di formazione eh un altro lavoro che io personalmente sto portando avanti col mio gruppo tecnico education di Confindustria Taranto è quello di attirare eventualmente eh ragazzi dagli altri paesi del del bacino mediterraneo eh perché spesso si pensa all'università o ai corsi di formazione in in Europa no? Si parla molto di Barcellona per le università si parla molto di Londra no? Di queste università svizzere ma noi abbiamo veramente delle eccellenze sia come università che come eh istituti di formazione l'ITS abbiamo una marea di formazione l'altra cosa che secondo me bisognerebbe eh mettere in contatto è il territorio con con la formazione e con gli istituti scolastici perché questo perché la formazione come diceva il presidente di ehm come si chiama di eh vabbè il no successiva vabbè eh diceva che bisogna fare una formazione ehm manageriale dal punto di vista manageriale nel senso che bisogna eh sì bisogna cercare di fare la formazione non in funzione delle figure professionali eh che esistono sul nel mondo ma le figure professionali che si servono al territorio quindi conoscere eh le esigenze del territorio e costruire la formazione sulle esigenze del territorio che possono il queste esigenze del territorio sono date dai progetti sono dati dalle aziende che già esistono e sono dati da quello che il territorio offre se in questo momento la Puglia eh ha necessità ha molti turisti ha necessità di camerieri di chef eccetera bisogna lavorare su questo a Taranto abbiamo avuto per fortuna la l'abbiamo avuto la fortuna di conoscere la dottoressa eh Capobianco che è la dirigente scolastica del Nautico e lei sapendo che a Taranto stavano per arrivare delle aziende come fincanti come fincantieri per fare delle ehm per costruire delle barche ha creato un corso per tagliatori d'ascia quindi questo che cosa significa? Che bisogna far sposare il territorio con la formazione e la formazione non può essere avulsa da quello che succede sul territorio e le aziende sono protagonista in tutto questo grazie